Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Per quanto ci riguarda siamo pronti ad ascoltare le motivazioni di questo singolare annuncio da parte dell'Agicom. Vogliamo ricordare che noi facciamo il nostro lavoro che è il giornalismo e non la farmacia, il bilancino del farmacista. Il bilancino del farmacista che male viene utilizzato da chi è nominato dalle forze politiche e dal Parlamento e che quindi dovrebbe guardarsi allo specchio prima di emettere sanzioni quale che siano. E mi sento di parlare non solo a nome della7 a questo riguardo. Non insegnateci a fare il nostro lavoro. Se ci sono degli squilibri evidenti ne parliamo. Se qualcuno non fa il suo lavoro con disciplina e onore è un conto. Ma fare questo tipo di affermazioni è veramente singolare. Ripeto poi la pagliuzza e la trave.